Ciao amici e Rebotech a tutti! State cercando un'aspirapolvere senza fili? Versatile? Completa? Con tantissimi accessori? Allora non ci resta che presentarvi l'ultimo uscito di casa Dream, l'R20 che ha caratteristiche simili al tanto blasonato... non lo dico perché è un marchio che ormai conoscete tutti ed è sicuramente migliore. Questo aspirapolvere Dream è completo, non gli manca nulla, ha una grande potenza di aspirazione di 27.000 pascal, una batteria da 8 per 2.900 mAh, un'autonomia massima di 90 minuti, il peso dell'unità di aspirazione di soli 1.67 kg, è una carica completa raggiungibile in quattro ore. Abbiamo poi un contenitore della polvere da 600 millilitri e un prezzo lancio a soli 399 euro. metteremo poi eventuali coupon dedicati, perciò andate a vedere sotto al video in descrizione per non perdervi la promo del momento. Subito dopo la sigla ve ne parliamo e vi diciamo come ci siamo trovati con questo super aspirapolvere. Nella confezione abbiamo la parte principale che contiene il motore di Dream R20, una prolunga leggerissima, una spazzola multisuperficie, una spazzola a rullo morbido, poi vedremo la differenza fra le due, una mini spazzola motorizzata, un attacco combinato lungo e un adattatore flessibile per andare negli angoli, soprattutto sui muri e nelle parti alte degli angoli della casa e si può allungare in base alle vostre esigenze. Abbiamo poi un supporto di ricarica due in uno e tutti gli accessori per poterlo montare a parete. Noi non l'abbiamo montato perché non volevamo fare buchi nel muro ma è davvero comodo e intuitivo ed è dotato di alloggiamento per poter riporre anche la batteria quando è in carica perché la potete staccare dall'unità principale. Il Dream R20 è gratificante in ogni ambito e è velocissimo da assemblare e montare. Al centro c'è la parte principale che contiene la batteria, il motore e il contenitore della polvere che sono i componenti più importanti. Se si desidera utilizzarlo come aspirapolvere è sufficiente collegare uno dei numerosi accessori alla parte anteriore del dispositivo. Se invece volete aspirare in modo classico o raggiungere i luoghi alti come i muri o gli angoli dei muri nella parte alta potete usare la prolunga di estensione corrispondente. Le connessioni plug-in sono molto facili da scollegare con un semplice pulsante. Collegare singoli componenti è facilissimo e immediato e vi basterà ascoltare il click per capire che è stato collegato correttamente. Allo stesso tempo i componenti possono essere rilasciati senza problemi premendo il pulsante corrispondente. Questo Dream è caratterizzato da un design moderno, da un aspetto pulito, bordi arrotondati e una combinazione di colori principalmente grigia. Ci sono anche alcuni inserti dorati che danno un tocco di classe in più. Il produttore si affida a una fibra di carbonio resistente e ultraleggera per la prolunga. Di conseguenza questa parte è disponibile anche in un grigio leggermente più scuro che crea un contrasto veramente piacevole. Il corpo principale è disponibile nella forma cilindrica come il resto dell'aspirapolvere e ha un'ottima qualità costruttiva. Non scricchiola in nessun caso e gli assemblaggi delle varie parti non ballano e sono sempre molto solidi. I pulsanti e i fermi possono essere azionati in modo veramente semplice. Nonostante la qualità costruttiva il dispositivo si distingue per un peso estremamente ridotto di soli 1.67 kg. Tanti device della concorrenza pesano molto di più perciò questo è sicuramente un fatto che differenzia e avvantaggia questo aspirapolvere Dream. Non avrete alcun problema nella gestione e non dovrete fare sforzi e alla fine della sessione di pulizia non avrete dolori da nessuna parte, braccia, spalle e quant'altro. Il funzionamento del Dream R20 è praticamente infallibile. Utilizzando il grilletto sull'unità principale si accende e si spegne l'aspirazione senza fili. Oltre al pulsante principale troverete anche altri due pulsanti sullo schermo LCD che vi indica continuamente la batteria e anche la tipologia di aspirazione che state utilizzando in quel momento. Uno di questi viene utilizzato per impostare la modalità di aspirazione auto oppure turbo. Premendo l'altro invece si attiva o disattiva la funzione di pulizia continua così eviterete di tenere premuto continuamente il grilletto. Questo è particolarmente utile quando fate pulizie prolungate in casa. Dream ha fatto davvero un ottimo lavoro col display. Oltre allo stato della batteria è possibile leggere anche messaggi di modalità di pulizia e di stato. La forma del manico ha un'ergonomia eccezionale. Dream utilizza una forma leggermente inclinata per adattarsi all'angolo naturale del polso. Non sorprende che Dream R20 possa essere manovrato con estrema facilità e agilità attraverso le vostre mura di casa. I collegamenti a innesto flessibili della spazzola multisuperficie della spazzola a rullo morbido entrano in gioco e vi aiutano tantissimo nella pulizia. Questi rispondono molto rapidamente alle vostre istruzioni direzionali consentendo di essere manovrati agilmente attraverso nicchie strette e anche persino sotto a mobili piatti e bassi. In primo luogo c'è l'accessorio standard sotto forma di spazzola multisuperficie. Come suggerisce il nome questo è adatto per la pulizia di vari pavimenti e in tanti contesti differenti. La spazzola multisuperficie raccoglie facilmente i peli degli animali domestici senza che si aggroviglino nella spazzola. Che si tratti di pavimenti duri, parquet, laminato, vinile o piastrelle o persino moquette, questo è in grado di gestire qualsiasi superficie. Oltre alla spazzola multisuperficie avrete anche altri quattro accessori inclusi. Avendo un gatto in casa ho notato che i peli degli animali domestici non si attaccano alla spazzola ma vengono assorbiti e risucchiati dal potente motore che tra l'altro ha un rilevamento automatico dello sporco e della polvere che gli fa aumentare autonomamente la potenza di aspirazione. Ciò rende la manutenzione immensamente più semplice perché non ci sono poi capelli o peli aggrovigliati alla spazzola. Per i pavimenti duri e delicati tipo marmo si può usare la spazzola a rullo morbido in pratica che è perfettamente adatta per pavimenti duri, normali, con piastrelle standard ad esempio ed è forse più indicato per l'assorbimento della polvere. La mini spazzola motore è la migliore per la pulizia ad esempio per i divani e le poltrone. Questo accessorio può essere utilizzato anche per aspirare la tapezzeria dell'auto. Ci sono anche altri due accessori, uno ha un formato piatto e corto e l'altro largo e lungo. Nei nostri test l'accessorio flessibile è stato perfetto per la pulizia in luoghi ristretti dove l'aspirapolvere con attacco convenzionale non può arrivare. Abbiamo usato questo ampio attacco corto per aspirare oggetti piatti come ad esempio la tastiera, il tavolo da pranzo oppure la credenza. È adatto soprattutto per l'aspirazione delle bricele. Davvero pratico è l'adattatore flessibile, col suo aiuto l'aspirapolvere ottiene un giunto aggiuntivo che consente di aspirare sotto tavoli e divani senza sforzi. Nei test siamo riusciti a pulire tutto senza dover spostare i mobili incriminati. Grazie all'ampia scelta Dream R20 può essere utilizzato praticamente in qualsiasi scenario di pulizia. Con la sua tecnologia laser detect il Dream R20 entra in diretta concorrenza con ad esempio il Dyson V12. Quindi la luce dovrebbe indicare polvere che non potreste vedere ad occhio nudo e in effetti è proprio così. Ciò dovrebbe consentirvi risultati di pulizia ancora migliori. In effetti questa luce blu vi fa vedere cose che vi faranno drizzare i capelli o ve li faranno ricrescere anche se non li avete. Come se aveste un telescopio che vi mette in evidenza tutto quello che occhio nudo non riuscite a percepire. Anche in luoghi apparentemente puliti la tecnologia laser porta alla luce tutti i difetti e la sporcizia presente in quel determinato contesto. Con questo accessorio e con il laser potete trovare anche la minima particella di sporco. In più questa luce vi serve per illuminare gli angoli bui sotto i mobili o nelle parti meno illuminate. In pratica la rilevazione laser è possibile solo con l'uso della spazzola a multisuperficie. Tuttavia questo non è assolutamente un limite anche perché sarà l'accessorio che utilizzerete più spesso. Il Dream R20 offre anche come dicevamo il rilevamento intelligente dello sporco dove agisce in modo completamente autonomo. Non appena i sensori rilevano un'area molto sporca la potenza di aspirazione aumenta automaticamente. Mentre il colore verde sta per polvere leggera l'arancione corrisponde allo sporco medio. Se il display si illumina di rosso vuol dire che ha rilevato sporco pesante. Ma il miglioramento delle prestazioni non si verifica solo quando viene rilevato lo sporco. I miglioramenti si verificano anche con superfici che richiedono più energia per la pulizia. Questo è particolarmente adatto per i tappeti. Potete anche aumentare manualmente la potenza di aspirazione ovviamente. In questo caso dovete passare dalla modalità automatica a quella turbo premendo l'apposito pulsante dedicato. Veniamo alla batteria. Secondo il produttore la batteria del Dream R20 dovrebbe essere in grado di durare almeno 90 minuti. Nei test non abbiamo mai esaurito l'ora e mezza di utilizzo. Tuttavia possiamo dire che l'aspirapolvere ha una batteria che offre sicuramente una capacità ottima per almeno un'ora abbondante di pulizia continua. La comoda cerniera ci ha permesso di pulire la stanza e anche sotto al divano. Questa batteria poi può essere facilmente rimossa e caricata a parte con l'apposito cavo. In modalità turbo avrete comunque una durata della batteria più breve perché spregionerà la massima potenza. Perciò se volete aspirare grandi aree con molta potenza sicuramente sarà consigliabile acquistare una batteria extra perché durerà la metà in modalità super turbo. La manutenzione è presto fatta. Basterà utilizzare l'apposito pulsante del contenitore della polvere per svuotarlo e la polvere caldrà direttamente nel cestino di rifiuti. E tutto è estremamente facile. Basta un click. Dopo una settimana di utilizzo ho avuto polvere densa depositata nell'unità ciclonica. Questa non cade subito quando si apre semplicemente il contenitore della polvere tuttavia il componente può essere rimosso per una pulizia più intensa. Dream consiglia di pulire l'unità ciclonica completamente due volte all'anno. Per questo è sufficiente sciacquare accuratamente e poi lasciare asciugare. Se trovate un messaggio di testa di errore basterà smontare i singoli pezzi, pulirli in modo accurato e rimontarli per far sì che i messaggi di errore svaniscano e si ripristini la funzionalità completa. Insomma in conclusione con il Dream R20 abbiamo un prodotto che è targato Xiaomi di fatto. Una nuova ammiraglia super versatile che offre tantissime tipologie di utilizzo. Abbiamo un rilevamento intelligente dello sporco, ottime prestazioni di aspirazione su tutti i tipi di pavimento e una durata della batteria assolutamente promossa. Sulla carta R20 è migliore di tanti altri significativamente più costosi. Oltre a un contenitore per la polvere più grande ha anche un peso più ridotto e una maggior potenza. Dream ha dimostrato ancora una volta che non è necessario andare a spendere tantissimi soldi se si desidera un aspirapolvere senza fili, senza compromessi e adatta a tutti. Detto questo metteremo il link in descrizione, la promo e l'eventuale coupon. Salutiamo tutti gli amici malati di smartphone, di smartwatch e tutto il loro network. Su Telegram venite anche sul nostro gruppo ReboTech Group sempre su Telegram e venite a leggere tutte le nostre recensioni scritte sul nostro blog ceotech.it, il blog di tecnologia più faigo che ci sia. Ci vediamo prestissimo per tanti altri contenuti, likeati a bestia, iscrivetevi al canale e condividete i nostri contenuti. Un saluto da Pasqui e ReboTech a tutti. Ciao!